Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di algebra di oggi andremo a vedere i polinomi. Nei scorsi lezioni abbiamo introdotto l'argomento generale delle espressioni letterali. Tra le espressioni letterali abbiamo identificato un caso particolare, ovvero i monomi, ovvero espressioni letterali, quindi contenenti numeri elettriche, che contenevano solo moltiplicazioni o divisioni. Ecco, ora andiamo a generalizzare. E così come il termine monomio vi fa pensare a qualcosa di unico, no? Mono significa uno solo, il termine polinomio ovviamente andrà a indicare qualcosa che viene in più termine, no? Poli nel senso di più volte. Quindi è chiaro che il primo obiettivo della lezione di oggi sarà permetterci di identificare un polinomio. Dopodiché andremo a vedere varie caratteristiche dei polinomi a partire dal loro grado. E così come abbiamo fatto per i monomi vedremo che c'è il grado rispetto a una certa lettera e il grado complessivo. Infine andremo a vedere alcune caratteristiche dei polinomi e qui ci sarà purtroppo da imparare un po' di definizioni riguardo a come si possono presentare i polinomi. Ma andiamo subito a vedere degli esempi. Ecco, per esempio, qui abbiamo un'espressione letterale. 3a, ovvero 3 per a. Questo ovviamente è un monomio perché contiene solo moltiplicazioni. Quest'altro esempio che ottenuto abbiamo ottenuto prendendo il nostro monomio di partenza moltiplicandolo per un numero. 2 per 3a va a fare 6a. E di nuovo questo è un monomio. Ma se invece il nostro monomio di partenza lo andiamo a sommare con un altro monomio non simile, come vedete, meno 5b, quindi con una parte letterale diversa, è chiaro che la nostra espressione non può essere riscritta in un'altra maniera. Remarrà scritta così, quindi rimarrà scritta con due, come si dicono, termini, 3a meno 5b e questa espressione letterale a questo punto non la chiameremo più un monomio, ma la chiameremo un polinomio. Ora, in particolare, noi possiamo anche dare dei nomi ai polinomi in base al numero dei loro termini. In questo caso abbiamo un polinomio con due termini, lo chiameremo un binomio. Andiamo a vedere quindi qual è la regola generale, qual è la definizione di polinomio. Un polinomio, come potevamo quindi già intuire, è una somma algebrica di monomi, quindi dei monomi legati dalle operazioni di addizione e o sottrazione. E qui riconoscerete un esempio che avevamo già visto quando abbiamo introdotto l'argomento dei monomi, no? Abbiamo 3ab, ovvero 3 per a per b è un monomio, perché contiene solo moltiplicazioni. Invece 3a più b è un polinomio e come vi ho detto prima, contenendo solo due termini, lo possiamo chiamare anche binomio. Ecco, e cosa si può dire riguardo al grado di un polinomio? In realtà noi abbiamo due definizioni. Il primo è il grado di un polinomio rispetto a una lettera. Quindi noi ci aspettiamo che in un polinomio ci siano varie lettere. E qui vediamo già un esempio. Per esempio, eccolo qui. a b alla quarta, questo è il primo termine, il primo monomio che compie nel nostro polinomio, meno 2a alla seconda b, secondo termine, più 3, terzo termine, meno 5a alla terza. Ecco, andiamo a vedere a questo punto qual è la definizione. Il grado di un polinomio rispetto a una lettera è l'esponente più alto a cui compare la lettera nel polinomio. Quindi è chiaro che avremo un grado diverso rispetto alla lettera a, in questo caso, e rispetto alla lettera b. E qui di seguito ho scritto la lettera a e in blu quelli rispetto alla lettera b. Andiamola a vedere insieme. In questo primo monomio la lettera a è di primo grado. Qui è di secondo grado. Qui la lettera a non c'è. Quando una lettera non è presente, noi diremo che quel termine è di grado 0 rispetto a quella lettera, quindi grado 0 rispetto alla lettera a. E in questo caso è di grado 3. Tra 1, 2, 0 e 3, chiaramente il grado più alto è 3, quindi possiamo dire che questo polinomio sarà di grado 3 o di terzo grado rispetto alla lettera a. Andiamo a vedere per la lettera b. Qui abbiamo un 4. Qui abbiamo niente, quindi un 1. Qui proprio il b non c'è, come vi ho detto prima. Questo significa che questa è di grado 0 rispetto alla b. E anche in questo ultimo termine manca la b, quindi di nuovo grado 0. Andando a confrontare questi numeri in blu, è chiaro che potremmo dire che questo polinomio è di quarto grado, ovvero di grado 4 rispetto alla lettera b. A questo punto, come abbiamo fatto per i monomi, possiamo definire qual è il grado complessivo. E uno potrebbe pensare, allora io devo semplicemente sommare tutti questi numeri per ottenere il grado complessivo. E questo è un errore molto comune. Ma in realtà non è così. La regola ci dice, invece, che il grado complessivo di un monomio sarà il grado del monomio di grado più alto. Quindi non andiamo a sommare i gradi tutte lettere di tutti i termini, ma andremo a vedere il monomio per monomio qual è il grado complessivo e andremo a scegliere quello di grado più alto. Qui riconoscete lo stesso polinomio dell'esempio di prima. a b alla quarta, meno 2a alla seconda b, più 3, meno 5 alla terza. A questo punto andiamo a vedere il grado complessivo. Tra le cose noto già qui un errore, e spero lo notiate anche voi, perché questo è di grado 1, questo è di grado 4, quindi questo in realtà è di grado 5. Attenzione. Questo è di grado 2, più 1, grado 3, quindi questo monomio è di grado 3. Quando un monomio non contiene lettere di alcun tipo, diremo che è di grado 0. E infine, apro qui una parentesi, in un polinomio può capitare spesso un termine semplicemente numerico, quindi privo di lettere. Ecco, noi diremo che questo è il cosiddetto termine noto, perché noi ne conosciamo il valore, perché non c'è bisogno di attribuirgli un valore sostituendo il valore che so della a, della b. Questo sarà, per esempio, questo sarà sempre 3, dipendentemente da quanto valgono a e b. Ecco, in dettaglio chiameremo termine noto. Tornando al nostro polinomio di partenza, potremmo dire che questo polinomio è di grado 5, non 4, purtroppo come è scritto qui. Ecco, ora viene, diciamo, una parte che è un pochino più noiosa della lezione di oggi, perché è veramente una parte più nozionistica. Noi non l'applicheremo, in realtà, nei conti che faremo in classe, negli esercizi. Però è importante che voi sappiate riconoscere queste tre definizioni. Allora vedrò di leggervele molto velocemente, e poi voi potete anche, insomma, far scorrere questo video di nuovo, metterle in pausa. Vedremo altri esempi in classe. Allora, cominciamo con ordine, appunto. Un polinomio può essere ordinato rispetto a una lettera se... Ecco, guardiamo la x. Qui c'è x alla quarta. Qui c'è x alla terza. Qui c'è x e qui non c'è, che è come dire, x alla zero. Quindi se noi andiamo a vedere gli esponenti della x, vedete che sono in ordine, in questo caso, decrescente. 4, 3, 1, 0. Allora, in questo caso diremo che è ordinato, in senso decrescente, se vogliamo essere più precisi, rispetto alla lettera x. Va bene? Per esempio, per la lettera y non è vero, per il grado 0, 1, 0, 0. Quindi, a volte un polinomio può essere ordinato rispetto a una lettera e non esserlo rispetto a un'altra. Omogeneo. Omogeneo significa che ogni termine, ogni monomio che lo compone, è dello stesso grado complessivo. E questo lo possiamo vedere facilmente in questo esempio. Questo è un monomio di grado 4, 2 più 2 fa 4. Questo è un monomio di grado 4, di nuovo, 1 più 3 fa 4. Questo è un monomio di grado 4. Questo è un monomio di grado 4. Quindi questo non è ordinato, né per la b, perché vedete qui a è 2, 1, 4, 0. Per la b qui è 2, 3, 0, 4. Quindi non è ordinato. Lo potremmo ordinare. Però è omogeneo. Questo, per esempio, non è omogeneo, perché questo è un monomio di grado 4. Anche questo è grado 4. Questo è di grado 1. E questo è detto, è un termine nonso, grado 0. Infine, diremo che un monomio è completo rispetto a una lettera, se compaiono tutte le potenze di quella lettera da un certo numero fino a 0, compreso. Ci deve quindi essere anche il termine noto, o meglio, scusatemi. Ci deve essere un termine in cui quella lettera non compare. E qui lo possiamo vedere facilmente, perché qui c'è la P a la quarta potenza. Qui è la terza. Qui è la seconda. Qui è la prima. E qui non c'è, e quindi è a grado 0. Quindi questo è un polinomio che è completo rispetto a lettera. In realtà è qualcosa di più. Questo è anche ordinato, nel senso delle potenze decrescenti della P. Con questo è quanto per oggi. Arrivederci alla prossima lezione da Mr. Boscherini. Qui è la prossima lezione da Mr. Boscherini. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.